Ciao a tutti! In questi giorni la didattica a distanza ci ha permesso di sperimentare le nuove lezioni a distanza, dandoci spunto di motivazione e ricavando nuovi spunti per contenuti piuttosto interessanti. Quindi farò vedere come abbiamo realizzato un acquarello a partire da una fotografia. Come la pittura, la scultura, la musica, anche la fotografia può essere intesa come una forma d'arte. Tuttavia la fotografia è stata definita in passato un'imitazione della pittura, considerata una tecnica che non era in grado di esprimere emozioni e sensazioni. Invece non è così. Basta trovarsi al cospetto di madre natura, nella sua più totale contemplazione per emozionarsi profondamente e riuscire nell'intento di trasmettere queste emozioni. Questa è un'immagine dell'agro blu di Cerviglia scattata di una tipica giornata di autunno, appena acquistata una Nikon D5100 con una lente Nikkor 18-55mm. Ho usato una modalità programma sulla ghiera P. Questo significa che la luce viene così sottoesposta. Un metodo snombato a volte dai fotografi professionisti ma che in realtà conduce a ottimi risultati. La macchina misura l'esposizione generando una combinazione tempi-diaframmi adatti al contesto, paesaggistico in cui ci troviamo. Con i tasti più o meno possiamo tranquillamente regolare la luce. Personalmente io sottospongo a meno 0,7 in casi simili come in questa fotografia, oppure arrivo anche a meno 1 o a meno 1,3 davanti a Tramonti Romantici, qui siamo a Viverone, qualche anno fa, qui a Venezia sulla Riva degli Schiavoni e qui a Prarolo, le saglie allagate di cui ho molta nostalgia. In questo modo, così facendo, ho ottenuto dei nitidi colori brillanti in primo piano. È un cielo più chiaro, però non troppo così sovraesposto. Nella pittura, come in questo acquarello che è stato realizzato dalla mia luna Giulia, che è una speccata dote per il disegno, il discorso è analogo. I soggetti su uno sfondo, anche nell'acquarello, sono colorati in maniera leggera. Invece i soggetti in primo piano, nei contorni, come vedete qua, distinti, netti e brillanti. Un esperimento sicuramente da ripetere con altri paesaggi, per poi meglio definire superfici e per aiutare questi ragazzi che hanno maggiori difficoltà a divertirsi mettendo a punto le loro elevate doti per il disegno. Ciao, risentirci! Grazie a tutti!